Ieri mattina nel foyer del Teatro Mercadante alla presenza degli assessori alla cultura e al turismo del comune della regione Campania, Nino Daniele Pasquale Sommese, e di donna Adolfo Russo, vicario episcopale per la curia dell'Arcidiocesi di Napoli, è stata presentata la manifestazione I Magomundi, Feste e Santi della città di Napoli. Un programma di attività spettacolari volte alla valorizzazione in chiave turistico-culturale delle principali feste religiose partenopee. Tra le manifestazioni che vedranno coinvolto il comune di Napoli e la curia si segnalano la festa della Madonna della Neve a Ponticelli, la festa di Piedigrotta, le celebrazioni di San Gennaro, la festa di Sant'Alfonso Maria dei Liguri a Marianella. Momenti unici e di condivisione collettiva che il comune ha deciso di valorizzare, sia da un punto di vista delle tradizioni, sia come attrattore turistico di massa. Infatti il turismo religioso a Napoli e in Campania è uno dei comparti che attira ancora di più. Sarà un'occasione di vivere i quartieri, ha precisato l'assessore Daniele ieri in conferenza stampa, partecipando alle funzioni religiose e non solo, una riscoperta della città insomma a 360 gradi e delle ricchezze culturali in essa conservate.